Partiamo con il monologo, partiamo con il monologo, abbazzo gli alert Allora, abbazzo gli alert, partiamo con il monologo Allora, c'è sta la questione difensore Io, ragazzi, un pochino me sono formato sulla questione La Roma sul difensore sta proprio con le mani non legate De più, perché da quello che mi hanno raccontato a me La Roma può spendere un milione e mezzo di euro Ok? Ma un milione e mezzo che è compreso In gaggio all'ordo e commissione al procuratore Perciò cosa vuol dire? O prenditi, o prendi un prestito a 0 a 0 O prendi un parametro 0, uno che si svincola alla Bonucci L'altro problema principale per il difensore È che mi hanno raccontato che la Roma ha la lista Serie A dove può mettere un calciatore La lista Serie A dove può mettere un calciatore Perché la lista Serie A comprende i giocatori che comunque vengono dai vivai E Bonucci viene dal vivaio, non della Roma, ma dai vivai dei italiani E la Roma lo può prendere Ma giocatori in mercato estero La Roma non lo può prendere Nel senso, lo può anche prendere Per carità di Dio Ma poi è il terzo che va fuori la lista UEFA Cioè la Roma prende un altro giocatore Come Asmun, come Christensen Solo per campionato e solo per la Coppa Italia E non per Europa League E questo ragazzi ci deve far pensare Anche perché Kumbulla sta recuperando Abram ritornerà e è un giocatore della Roma E questo ci deve far pensare Allora io dico una cosa Innanzitutto secondo me non è imminente il difensore che prenderà la Roma Secondo me Due, bisognerà fare spazio Ma chi dice che Renato Sanchez andrà al PSG Bisogna vedere perché se Renato Sanchez non ha squadre Al PSG non torna Perché il PSG lo può riprendere Renato Sanchez Ma dice l'ingaggio ma lo paghi te E a Roma che fa? Gli ne paga un ingaggio per farlo stare al PSG A questo punto lo tiene E spera che magari giochi un po' di più Ma il PSG non ti regala i soldi a te Anche perché il PSG non li regala più a nessuno E sta impicciata anche lei Può uscire Spinazzola Solo che Spinazzola dovrebbe far parte della lista Serie A Da quello che ho capito Dovrebbe uscire Smalling O dovrebbe uscire Awar Però ragazzi stiamo sempre qua Si esce uno Poi c'è la mancanza di un altro Forse è l'unico Smalling Che non ce l'abbiamo mai avuto Però è un po' Un rebus Diciamo da quello che mi raccontano a me L'operazione perfetta Era proprio quella di Bonucci Perché Bonucci Rientrava in tutti i parametri della Roma Compreso l'ingaggio E il milione e mezzo che comprendeva tutto E la lista A Sarebbe stato un giocatore perfetto per la Roma Adesso poi Mourinho Insieme alla società Non si sono presi la responsabilità di portarlo Adesso in teoria In questo momento la Roma dovrebbe prendere un giocatore Diciamo al pari dei Bonucci Uno così Ma non è facile Sento di il nome di Cialobà Cialobà ci può stare Però vi dico pure un'altra cosa Cialobà non ha mai giocato Stanno Prendi il giocatore che O ti rimette in forma E devi vedere Un giocatore che se lo prendi Non entra nella lista A Quella italiana E va in UEFA Perciò in Europa League Non puoi essere un altro giocatore È un po' un casino Vi dico la verità Io secondo me La Roma Se deve prendere Tanto per prendere Vi dica la verità Io rimarrei così Anche perché il prossimo anno C'è un altro direttore sportivo Il prossimo anno C'è Non si sa se c'è un altro allenatore Vediamo Però Prendere tanto per prendere A sto punto Io direi a Mourinho O Tenventi dei giocati Difesa a 4 per mese Che poi Non dica Che sparisce Non dica Rientra Smoling Non si sa Con bulla Fra poco rientra I difensori Alla fine ce l'hai Cioè se Io devo andare a prendere Il giocatore Cialobà E ce l'hanno 3-4 mesi Per rimettolo A posto 2-3 mesi È un altro poffi Nel campionato Pagamo a buffo così Dobbiamo un altro giocatore Che magari Cioè ma rega Ma quei soldi là Ma chi cazzo prendi Ma che cosa prendi Cioè veramente Ragazzi Io So dell'opinione Che non Non direi nulla A società No devi prendere Il difensore Ragazzi La situazione È chiara Solo a chi Nulla vuole vedere Non è chiara Perché la Roma Sta impicciata A delle restrizioni Paurose Ai paletti A Fair play A un incontro Che vanno sempre Più rosso La società Cerca sempre Dei mantenere Alto Il livello De competitività E Lo tiene Altissimo Il livello De competitività O non ultimo Per prendere Lukaku Marco Si scorda Però Prima La Roma Prende Lukaku All'ultimo Voi pensate Che la Roma Prende Lukaku Per Lottare Per l'Europa League E la Conference League O prende Lukaku Prende Lukaku Prende la Champions League La classifica È anche deludente Cioè tu ti devi mettere Pure nei panni Della società Noi prendiamo Pure sto difensore Altri sordi E tutto quanto Poi capace Che Non andiamo In Champions E che famo Altri sordi Abbiamo buttato Sono Questioni Che secondo me Bisogna riflettere Ponderare E Vedere Perché Prendere tanto Per prendere Io sento dei nomi Le dico Improbabili Se dobbiamo prendere Tanto per prendere Lasciamo perdere Se dobbiamo prendere Il giocatore Funzionale Ottimo È un discorso Se dobbiamo prendere Un giocatore Che poi La base Deve essere pure Che gioca in Europa League Perché anche il discorso Che A Zmoon Tu lo hai preso Non gioca in Europa League Per me È È folle Sta cosa Cioè A Zmoon È un giocatore perfetto Che poteva far Rifiadare Lukaku Di Bala Ma proprio in Europa League E se no Che senso C'ha E io devo fare Quarto della partita Per guadagnare Tre milioni e mezzo A stagione A Zmoon Avrà giocato Novanta minuti Da inizio Dell'anno Novanta minuti Invece là Magari Contro Slavia E Servette Se squadre qua Poteva giocare Titolare E mettere minuti Comunque Altre cose Io Nomi Vedica la verità Ripeto Me danno Sta voce De Shalobama Non c'ho notizie E le mie notizie Vanno tutte su Twitter Notizia Twitter Quando non pubblico E perché non ce l'ho Oggi Damiano Faina Riporta che la Roma Sta trattando Falcone Vi dico l'idea Non so nulla Non ci ho parlato Però non so nulla Io posso dire che A gennaio Per me È impossibile Per quanto riguarda Giugno Molto Ci può stare Perché Rui Patrizio Andrà via Perché comunque Se si dà fiducia Il secondo portiere Il secondo portiere Può essere Un citofono Ma deve essere Il secondo portiere Che può Essere pronto Anche se Il ragazzo Sbarella È subito Titolare E Falcone Comunque C'ha qualche annetto De serie A Qualche annetto Che sarebbe Da titolare E all'evenienza Può far titolare Beh sta simpatico Tifoso da Roma Mi sembra Un buon portiere De certo Non sarà un campione Ma un buon portiere Vediamo Ma Non so nulla Ragazzi È importante Vedere anche Ripeto Chi esce Perché Se non esce Nessuno Diventa Veramente Complicato Fare Il difensore È Complicato Ragazzi È importante Che esce Qualche giocatore Ma non è Così scontato È difficile Poi il discorso Per dire Mi dicono No Vigna Vigna Non c'entra Un cazzo Che liste Vigna Sta da un'altra parte A Roma Se prende Vigna Ha solo Qualche soldino De più De mette Sul bilancio Perché non manchi Rinveste I soldi De Vigna Vediamo L'offerta C'è sta Ragazzi Mi dicono Che c'è Un'offerta De 6 milioni Da parte Della Scuola Brasiliana Però Pinto Ne vuole di più Secondo me A metà strada Si può fare Secondo me 8 milioni La Roma Lo dà via Vigna Anche perché Non è minus valenza L'importante Non fa minus valenza Ok Monologo Terminato Monologo Terminato Gli alzo Passworld Dove Grazie a tutti.